Che panorami Mucche al pascolo Mucche al pascolo, procediamo piano Mucche al pascolo, procediamo Mucche al pascolo, procediamo Mucche al pascolo Mucche al pascolo Mucche al pascolo, procediamo Mucche al pascolo, procediamo Mucche al pascolo 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 Lo chiamano il piccolo Tibet in Abruzzo, qui siamo in alta montagna, siamo su un altro pianeta. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Ecco il ristoro mucciante. Ragazzi vi ricordo se il video vi è piaciuto e se gli altri video vi piacciono di iscrivervi al canale per seguire un po' tutte le varie vicende e i miei viaggi in Abruzzo. Fermiamoci va. Ci vediamo nell'ultima parte del video verso Castello del Monte. A dopo ragazzi. Grazie a tutti. Ecco siamo giunti a Castello del Monte. Celebre borgo ai piedi di campo imperatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Colori stupendi autunnali. Ci sono 3.000 colori diversi hanno queste foglie, questi alberi. Sembra una tavolozza di colori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.